C'è di meglio, è pur sempre un 4-4, è pur sempre un 4-4 e non è proprio il top del top Tutti, tutti, Messi, 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 non ci credo, non ci credo, Messi, vamos, vamos, mannaggia la miseria, mannaggia Messi, mamma mia, Messi, scambiabile, Messi, 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 Gairo un accanto all'altro ci potrebbe stare, il vipetto Ci potrebbe anche stare, per 5-6 pic, tutti, Lewandowski, 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 vamos, vamos Lewandowski, signori miei, Lewandowski, mamma mia, mamma mia ragazzi, sei pazzesco, così in faccia, mamma mia, mamma mia, Lewandowski Lewandowski, Lewandowski, e siamo a 2 siamo, e siamo a 2, siamo a 2 siamo, ah raga non è ancora uscito, io penso che non sono ancora usciti Mamma mia, mamma mia, mamma mia ragazzi, è insomma, 11 attaccanti, dai con sto pacco, dai con sto pacco, dai con sto pacco, ti prego Eccolo, eccolo, Lewandowski, Lewandowski, vamos, 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 Lewandowski, Lewandowski E siamo a quota 3 siamo, a quota 3, è forte figuriamoci però, sinceramente, onestamente ragazzi, pagano quanto messi, mi siamo un po' troppo Un po' del girato sinceramente Un po' del girato, sinceramente Un po' del girato, oh, tutti Giorginio, 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 e siamo a quota 4, siamo a quota 4, Giorginio Questo è il quarto, sarebbe il quarto, Giorginio, siamo a quota 4 siamo, siamo a quota 4 Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, siamo a quota 4, ragazzi, siamo a quota 4 Giorginio, secondo me, quando è entrato il R9, eh, più o meno in questo periodo, in questo mesetto A febbraio, più o meno, fino a gennaio, febbraio, oh, tutti, 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 portiere Donnarumma Vamos, 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 vamos Donnarumma, vamos, Donnarumma, signori Ed è il quinto, ed è il quinto, signori, ed è il quinto, ed è il quinto Tutti, let's go, let's go Capito? Ti eri venga ad aprire, ma non tutti, magari Non tutti, siamo a peccato, oh, tutti, ti prego, ma non lo voglio vedere, non lo voglio vedere Dai, ti prego, Yei, non mi farei scherzi, eh Non mi farei scherzi, ma vediamo No, Donnarumma Di nuovo Hakimi, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, Hakimi Vamos, Hakimi, vamos Vamos Mi stavo triggando come non va, ragazzi, vamos Vamos Vamos, Hakimi Vamos, Hakimi, vamos, Hakimi Che bello che sei Corre come un treno, corre come un treno, Hakimi Come un treno, corre Mamma mia, Gigi Che è scemenzione? Punta schermativo di Instagram Ah, ok, ok, andrei top, top Il gigantino da favole Oh, tutti Non lo voglio vedere, non lo voglio vedere Non lo voglio vedere, ti prego, ti prego, non fa scherzi, ti prego Non fare scherzi Questo pacco vengono da te Trovi il tutti Magari Magari Vado Non lo vedo, eh, non lo vedo Non lo vedo Ditemi po' chi esce Ditemi po' chi esce, ragazzi Non lo vedo, ragazzi Vediamo un po' Che cos'è? No, un tutti Non ci credo un tutti, ragazzi Un tutti No, Donnarumma Non ci credo Nooo, me l'ha ridato Vedo Io vado col naso Non lo vedo, ragazzi Non lo vedo Ditemi po' cosa esce Ditemi po' cosa esce Non lo voglio vedere questo qua Allora Ehm Che cos'è? Oh, tutti Sì, ne è Donnarumma Vai Vai, Donnarumma Pionieri 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 Andrei Ma io lo dico sempre Oh, tutti Tutti Donnarumma Vavos Donnarumma Tipo il Il quarto No, il quinto Donnarumma Ti dirvi Eh, mamma mia Oh Siamo assatanati Stamattina Oh, assatanati